ciao a tutti e benvenuti al consueto appuntamento mensile per quanto riguarda i costi e consumi dell'energia elettrica in quanto casa mia va tutta ad energia elettrica già dal 2015 quindi sono cinque anni e adesso vediamo il mese di ottobre che l'anno scorso ho consumato 165 kilowatt nell'ottobre 2019 con una spesa di 56,95 euro mentre quest'anno quindi il mese scorso in ottobre ho consumato 341 kilowatt quindi molti molti di più con una spesa di 67,41 euro ecco ho riscaldato sicuramente di più quest'anno e anche in novembre quindi il prossimo video che farò sarà quella di novembre ho riscaldato molto di più e anche questo mese qua di dicembre probabilmente consulterò molto di più in quanto non credo che andrò via come tutti gli anni e resterò qua a casa quindi scalderò tutto il mese di dicembre probabilmente però adesso restiamo ad ottobre quindi avete visto più o meno i costi e i consumi resterò comunque intorno ai 600 euro all'anno come sempre dipende poi vediamo dicembre che di solito non non consumavo molto e vediamo poi con gli altri video bene con questo io vi saluto vi ringrazio tantissimo per tutti i complimenti che mi state facendo mi potete seguire sulla pagina fb o iscrivervi al canale per chi non l'ha ancora fatto vi auguro una buona giornata e un buon fai da te a tutti ciao ciao